Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale I carabinieri recuperano in un campo nomadi numerosi gioielli rubati nel centro Italia e ora si cercano i proprietari Elezioni regionali, Elisabetta Foschi è la candidata fanese di Forza Italia Gli fanno vincere a Chieti per 2-1 ma ormai è sfumato il sogno per la promozione in Lega Pro A vincere il campionato è la maceratese Buonasera cari spettatori di Occhio alla Notizia e benvenuti a questa edizione del TG I carabinieri di Pesaro e Gabice Mare hanno sequestrato in un campo nomadi di Roma 100.000 euro di gioielli e ora si cercano i legittimi proprietari Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Collane e braccialetti di perle, orecchini e orologi Rolex Sono circa 70 i gioielli rubati in particolare nelle abitazioni di varie città delle Marche, della Romagna e del Lazio ritrovati poi in un campo nomadi di Zagarolo a Roma Il valore complessivo di questi oggetti è di circa 100.000 euro e sono principalmente in oro bianco perché quelli in oro giallo venivano subito fusi in lingotti Durante le indagini inoltre i carabinieri al comando del capitano Giuseppe De Gori e del maresciallo della stazione di Gabice Mare Giuseppe Zocchi hanno recuperato un televisore di ultima generazione di 46 pollici che era stato rubato, si presume dalla stessa banda di nomadi all'inizio di luglio scorso nella casa di un gioielliere a Gradara Sono riuscito ad agire in poco tempo e poi a riportare anche la rifurtiva nel Lazio dove riteniamo che anche tutto il gruppo di malviventi avesse come la base operativa in quel luogo I professionisti del furto che risultano nulla facenti e nulla tenenti per non farsi scoprire cambiavano cellulari e macchine ogni settimana Durante le perquisizioni infatti i carabinieri hanno trovato ben 40 scatole di telefonini Ora, mentre proseguono le indagini, i militari cercano i legittimi proprietari dei gioielli alcuni ancora impegnati con tanto di polizza in una banca Quello che dovessero riconoscere questi gioielli come possono fare? Come possono contattarvi? Possono rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Gabice Mare dove il materiale è attualmente custodito in attesa di ulteriori accertamenti Naturalmente adesso le indagini proseguono per risalire agli autori i materiali del furto perché fino ad ora abbiamo identificato una quarantenne di Zagarolo già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio che viveva in questo campo ad altri familiari e parenti per risalire agli autori del furto che riteniamo siano almeno altri 3-4 e sulle cui tracce siamo già a buon punto Il comandante De Gori ha ricordato ai cittadini di fotografare sempre i propri oggetti di valore per poi riuscire a dimostrarne la proprietà come in questi casi o se possibile di portarli in una cassetta di sicurezza in banca I due alpinisti fanesi Pietro Marcucci e Luca Cantiani oggi sono tornati alle loro case a Fano attorno alle ore 14.30 dopo un volo di rientro dal Nepal dove si trovavano per tentare l'ascensione alla vetta della montagna più alta del mondo Pietro Marcucci ci ha confermato che le loro condizioni di salute sono ottime anche se un po' stanchi e frastornati non è stato possibile conquistare la vetta per le pessime condizioni atmosferiche che in questo momento ci sono in quella zona il tempo era molto bizzarro ci ha detto lui stesso al telefono e speriamo di avere presto i nostri microfoni Pietro per sentire dalla sua diretta testimonianza che cosa è avvenuto in Nepal cambiamo argomento torniamo ad occuparci di elezioni regionali Elisabetta Foschi di Forza Italia ha presentato ufficialmente la sua candidatura a consigliere sentiamo un impegno importante in cui ha portato avanti diverse battaglie in questi 5 anni molte vorrei ricordare l'impegno per sbloccare i fondi per la difesa della costa quello per realizzare la cassa di colmata per i fanghi del porto l'impegno contro le centrali a biogas che non sono state realizzate la battaglia è stata vinta un impegno costante sulla sanità e devo dire un piano fallimentare che partiva anche da presupposti validi ma che è stato davvero fallimentare va completamente ripreso e questo sarà l'impegno dei prossimi 5 anni Fano devo dire che è sempre stata una priorità per quanto mi riguarda e l'ultimo impegno in ordine cronologico quello per l'attivazione del bienio al Codma una situazione che poteva benissimo essere realizzata potevamo avere già i due anni al Codma a settembre un impegno perso a causa del PD un PD che è sempre stato molto ostile a questa città ad ogni intervento che qui doveva essere realizzato adesso si presenta addirittura come il paladino mi sembra davvero poco credibile Lei ha concluso questa conferenza parlando anche di lotta agli sprechi Sì assolutamente io ho fatto una battaglia agli sprechi non solo a parole ma con i fatti ricorderete tutte le battaglie contro il vitalizio beh io ci ho volontariamente rinunciato non percepirò mai il vitalizio che è uno dei peggiori pregi della politica c'è chi ne ha fatto una battaglia solo a parole e non nei fatti io penso di essere diversa anche in questo Buone notizie per i ciclisti sono partiti oggi i lavori di illuminazione della pista ciclabile tra Fano e Fosso Soiore è un intervento che riguarda 3 km e 800 metri di pista sulla quale verranno installati 165 lampioni LED di ultima generazione per una spesa complessiva di circa 100.000 euro sono iniziati questa mattina i lavori ad opera di Asset S Pian e la pista ciclabile Fano Fosso Soiore l'iter cominciato a fine dicembre 2014 ha coinvolto per sopralluoghi e autorizzazioni il comune di Fano, la rete ferroviaria italiana e Anas le operazioni dunque richiederanno la chiusura dei cuni tratti della ciclabile su entrambi i sensi di marcia per il mese di maggio questa mattina abbiamo fatto lo start up di cantiere abbiamo cominciato la prima fase il primo fronte di 200 metri e non abbiamo trovato problemi per quanto riguarda essendo un'opera di completamento cavidotti e plinti sono come ce li aspettavamo quindi siamo anche fiduciosi diciamo sul minimizzare quello che è il sacrificio richiesto agli utenti per la fruizione ridotta in maggio ma con lo stato avanzamento lavori ecco diremo esattamente quando sarà la chiusura siamo partiti oggi ma come ripeto siamo fiduciosi a Pesaro invece riprenderanno questa settimana tempo permettendo i lavori di asfaltatura delle strade cittadine più bisognose di riqualificazione previsti anche interventi di manutenzione di alcuni tratti di asfalti danneggiati dalla presenza delle radici delle piante costo totale dell'intervento 130 mila euro questo nell'immediato ma il comune ha già impegnato per l'estate in nuove asfaltature circa un milione di euro ed ora parliamo di scuola domani il 5 maggio sarà sciopero per dire no alla riforma della scuola dopo 7 anni i 5 sindacati più rappresentativi del comparto scuola sciopereranno insieme a Pesaro alle ore 11.45 si svolgerà un flash mob in piazza del popolo dove ci saranno anche studenti e famiglie è arrivata a Fano la reliquia di Santa Bernadette la veggente alla quale apparve la Madonna di Lourdes e rimarrà in diocesi fino a mercoledì 6 maggio sentiamo questa sera proseguono le iniziative per l'esposizione delle reliquie di Santa Bernadette alle 21 saremo nella sede dell'unità al Sifano ci vengono riportate dall'unità al Sifano e ci sarà il Santo Rosario la sede in via del torrente numero 3 dietro la chiesina della trave domani 5 maggio alle 6.30 il vescovo Monsignor Armando Trasarti celebrerà la Santa Messa nella cappellina dell'ospedale Santa Croce di Fano e durante la mattina poi due volontari porteranno le reliquie a far visitare a tutti i degenti quindi ci sarà questa processione per i reparti dell'ospedale poi alle 11.30 la recita del Santo Rosario e alle 12.30 il saluto delle reliquie con il canto del Regina Celi alle 16 arriveremo invece all'istituto Casa Penelope che si trova in strada San Michele di fronte all'aeroporto dove ci sarà un momento di condivisione con i ragazzi e i loro familiari alle 18 arriveremo invece alla parrocchia della Santa Famiglia di Fano per la recita del Santo Rosario il giorno successivo, martedì 6 maggio invece il nostro vescovo guiderà un pellegrinaggio riservato ai sacerdoti e ai religiosi e religiosi anziani al Santuario di Loreto e durante questo pellegrinaggio porteremo le reliquie con noi e poi laggiù le consegneremo al Cardinal Menichelli perché ci sarà in quell'occasione la riunione della conferenza episcopale marchigiana è bello avere con noi il nostro vescovo perché è proprio il delegato del pastorale della salute della conferenza episcopale marchigiana quindi questo incontro fra l'unità che si occupa dei malati le reliquie di Santa Bernadette che è la santa appunto del santuario dove c'è la maggiore affluenza di malati e del nostro vescovo che è delegato per la pastorale della salute è qualcosa che ci fa piacere e anche tanto onore Bene, ed ora prima di passare al calcio vi leggiamo un'ansa che è stata battuta poche ore fa e che riguarda i tafferugli e le devastazioni accadute a Milano per l'inaugurazione dell'Expo è stato fermato dalla polizia stradale nei pressi del casello di Bologna dell'A14 un fanese di 33 anni in possesso di materiale sospetto all'interno di una Fiat Punto era presente materiale di tipo caschi c'erano due zaini contenente guanti un scaldacollo, una felpa e un cappuccio tutti neri e una bomboletta spray anche un volantino dell'Expo il 33enne è stato denunciato il sospetto Black Glock è stato denunciato il PM ipotizza tentativo travisamento e sequestrato tutto il materiale ed ora calcio come ogni lunedì parliamo dell'Alma Juventus Fano che ha vinto per due gol su uno contro il Chieti ma sono sfumati i sogni di Gloria perché non riesce a passare in Lega Pro vediamo gli highlights di Sergio Catalani Amici di Fano TV buon pomeriggio buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dallo stadio Angelini di Chieti dove sta per avere inizio la penultima fatica dell'Alma Juventus Fano ultima in trasferta qui in terra abruzzese tra l'Alma Juventus Fano e il mister Alessandini oggi è qualificato peraltro e sostituito da Giulietti e il Chieti Borrelli in avanti c'è Gucci intanto Gucci 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 Nicolò Gucci e va ad esultare sotto la curva Granata il gol di Gucci c'è Rapino che pesca attenzione Prinari entra in area anzi è Orlando ancora Orlando verso Del Grosso il cross di Del Grosso il colpo di testa il gol segna Broso il gol del Chieti al quinto minuto Sartori ma è solo Sartori ancora il tiro di Sartori la parata la parata di Placidi Placidi Borrelli il tiro la palla che colpisce l'incorso dei pali incredibile intanto il traversone Ginestra si deve allungare per dire no a un colpo di testa schiacciato da parte di Broso vanno in avva scoperta parte Borrelli le traversone c'è Torta e c'è il gol Andrea Torta al 94 proprio in chiusura e l'esultanza tipica di Andrea Torta così come fece Amatelica il Fano è secondo prosegue la sua marza senza sconfitte sbanca anche L'Angelini finisce qui 2-1 con un po' di polemiche bene come ogni lunedì sera dopo il telegiornale potrete seguire l'edizione integrale della partita insieme alle festanti urla di Sergio Catalani noi invece se vorrete saremo di nuovo qui domani sera per un'altra edizione di Occhio alla Notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata grazie per aver guardato